Un nuovo caso di famiglia record, il secondo in una sola settimana nel Comasco. Sabato 2 marzo alle 18.32 è nato all'ospedale Sant'Anna, Filip, un bambino di 3,890 grammi, undicesimo figlio di Lidia e Ionel Kindea, residenti all'Urateca Civio. Muratore 45enne lui, casalinga 39enne lei, si sono trasferiti in Italia dal loro paese natale, la Romania, quando di figli ne avevano già 4 e oggi sono a 11, 4 femmine e 7 maschi. Il ragazzo più grande ha 19 anni e Lidia l'ha avuto quando ne aveva 20, la più piccola prima dell'arrivo di Filip a 4 anni. Sono tutti contenti che è arrivato undicesimo figlio e aspettano che va a casa. I suoi figli più grandi in questo li aiutano? Sì, mi aiutano, portano bambini all'asilo, a scuola, vengono a casa, fanno pulizie, stendono, lavano piatti da mangiare, di tutto quello che c'è bisogno. Non è una condizione che capita con una notevole frequenza, tutt'altro. È un evento molto raro, in un momento specialmente di dentalità come quello che sta vivendo l'Italia. C'è una concomitanza di situazioni per cui nella città sono nati a breve distanza gli undicesimi figli di coppie più o meno di età sovrapponibile, che comunque sono l'espressione del fatto che c'è ancora la fiducia nel futuro, nel senso che se una coppia fa undici figli vuol dire che crede che tutto sommato il futuro possa ancora essere roseo e comunque essere un futuro, diciamo così, propositivo. Ecco, è sicuramente un bel segnale.